caro popolo italiano buongiorno o buonasera dipende da quando state guardando questo video oggi mi trovo anch'io ad un angolo come tutti voi ma i miei cari concettativi oggi sono qui per rivelarvi un segreto sono riuscito a capire come combattere il coronavirus e come combattere la noia che alleggia nelle vostre case ebbene la risposta a tutte le vostre domande è molto semplice sono io beh allora se dobbiamo essere proprio precisi non sono io cioè loris la soluzione a tutti i vostri problemi in questo periodo ma è il mio personaggio e questo canale infatti sto parlando di lomrex e del canale lomrex benvenuti oppure ben ritornati in questo nuovo video oggi vi voglio far vedere i grandi capolavori che ci sono all'interno di questo canale quindi partiamo subito con il ricordarvi una delle più grandi serie che c'è stato su questo canale sto parlando della strada verso successo una mitica serie che di sicuro è migliore di molte serie che vengono viste su netflix vi consiglio soprattutto di recuperarla se siete anche nuovi di queste parti se non l'avete ancora vista i primi più esodi sono un po' lenti ma con il proseguire delle puntate saranno sempre più movimentati e divertenti e non potete veramente perderla questa serie il canale però non è incentrato solamente su questa serie sono stati creati anche delle show dopo la serie che vi consiglio di guardare dopo la visione di tutta la prima stagione di questa fantastica serie della strada verso successo ma ci sono anche video no senso come quelli degli stupidi italian guys e ci sono anche video d'avventura come i mitici blog che sono video di grandi avventure che abbiamo fatto io e i miei amici se non li avete ancora visti beh cosa ci fate ancora qua in questo video noioso e correte subito a vederli prima di concludere però ragazzi voglio dirvi altre due piccole cose la prima è che vi ricordo anche di andare a recuperare rispondo alle domande dei video che porto avanti da un sacco di tempo che sono le vostre domande che andrò a rispondere io insieme dei miei amici andremo a rispondere a ogni tipo di domande da quelle più divertenti a quelle no sense a quelle più serie a quelle un po più piccanti andremo a rispondere a tutte e poi vi ricordo anche di andare a vedere i due video iconici del canale se siete nuovi di queste parti vi ricordo di andare a vedere il video in cui andiamo a riproporre i provini del collegio 4 e poi anche il video dedicato a Kokeshi detto ciò ragazzi vi porto un saluto da casa mia a casa vostra e come ultimo appello come avranno detto un sacco di influenza gente molto più famosa di me anche gente molto più competente di me però nel mio piccolo voglio anche io dare la mia piccola parte cioè ragazzi posso solo darvi il messaggio di rimanere a casa facciamo questo piccolo sforzo per tornare alla normalità può sembrare un video riempi buchi no non ho il bisogno questo video lo voglio fare per ricordarvi anche che ci sono dei contenuti un modo anche per passare il tempo per divertirvi dove io faccio ancora lo stupido quando c'era libertà ragazzi restate a casa diamo il nostro contributo nel nostro piccolo se ognuno di noi rispetto a queste piccole e brevi accortezze tutto si sistemerà il prima possibile detto ciò un saluto da l'omerix un saluto anche da tutto il cast di l'omerix che ora non può essere qua presente ma di sicuro lo ripeterete molto presto e niente mi sono dilungato abbastanza ragazzi noi ci rivediamo settimana prossima con un nuovo video